Non si mangiano, io da noi qui i gatti non si mangiano, lo sai? Da noi qui i gatti non si mangiano, qui da noi i gatti si tengono in casa come se fossero i figli nostri Non ho cosa, non ho cosa, non ho cosa, non vuol dire qui non siamo a dove vai tu Dove vai tu, ora 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 ti mando io in galera, te ne vai in galera te ne vai Vergogna, guarda che stai a fare, vergognati, vergognati Cosa? Cosa fai? Cosa? Cosa fai? Cosa? A mangiare, te ne vai al lavoro come lavorano tutti Invece di tenere i laggi, i stigaretti, i soldi, ce li ha anche le stigarette e non hai i soldi per comprarti il pane? Vergognoso, schifoso, schifoso che non sei altro, schifoso Vergogna, guarda qua, guarda che sta a fare questa povera creatura Guarda qua, vergogna, vergogna Dove è andato il vostro paese? Andate a mangiare Vedo che le sigarette è qui in Cisopero Quindi non è mangiare quelle Non è mangiare, quelli non si comprano Invece di comprarti 50 sigarette Comprati il pane invece di ammazzare la creatura Sì, sì, ti preoccupare Ti preoccupare, vergognoso, schifoso Grazie mille Lezzo di meta Lezzo di meta Lezzo di meta Lezzo di soldi Lezzo di soldi, ce li ha i soldi, ce li ha i soldi Ma è una cosa vergognosa La stazione di Campiglia Ammazzato un gatto Sta cucinando un gatto qui alla stazione di Campiglia Una cosa vergognosa Da vergognarsi, da vergognarsi E' qui che cucina un gatto Ma siamo senza parole La stazione di Campiglia Sta cucinando un gatto Non so cosa dire La stazione di Campiglia